L'Olympic rossanese vince per 3 a 0 Salandria al trentesimo del primo tempo bellissimo l'assist di Vito Zangaro un cross dopo una bella fuga sulla corsia di destra al diciottesimo del secondo tempo calcio d'angolo di Vito Zangaro ennesimo gol del difensore Goleador a questo punto Ciccio Granata si difendono tutti i giocatori dell'Olympic, dell'ASD attenzione e c'è il gol di Ciccio Granata e al ventunesimo la gara la chiude virtualmente Angelo Petrone Samba di curatelo sulla fascia sinistra pallone sulla destra, un batte ribattinaria poi arriva Petrone e conclude ancora curatelo forse esagero un po', attenzione a Salandria poi c'è Petrone che va a colpire va a colpire Angelo Petrone 3 a 0 in questa stracittadina qui da Scalea vi ringrazio per la cortese attenzione è stata davvero una prova ottima per una grande Olympic rossanese sempre più capolista la rossanese con orgoglio ha cercato di opporsi ci è riuscita solo a tratti grazie a tutti per la collaborazione tecnica ringrazio Vincenzo Marino e Giuseppe Piro arrivederci da Matteo Monte grazie a tutti